Caro Gianni, non è mai un déjà vu, perché ormai sono tanti anni. Quanti anni che si fa questo Lampo Trophy? Questo Lampo Trophy Under 12 sono 19 e l'Under 14 è stato fatto per 7 anni, quindi tanto tempo. Mi ricordo in particolare quando è passato un tale... Bravo, Marei, che io ho premiato come miglior giocatore, abbiamo fatto la foto, l'abbiamo messa al circolo e poi la foto è scomparsa. Questa è un aneddoto curioso. E passate anche una rubena che ha vinto Ronan Garros. Esatto, Simona Alep, che probabilmente, ma questa è una chicca in anteprima, alla prossima presentazione dovrebbe essere presente per il ventesimo. Oh, bella, bella, infatti, invece dicevo un déjà vu, perché ormai addirittura c'è l'arbitro, il referee che conosciamo già, quindi è collaudato la cosa. Collaudato, sì. Diciamo che, ecco, siamo ritornati, sono gli unici tornei internazionali che si disportano in provincia di Brescia e questo è un preso, ma è anche una nota triste, perché il Covid ha limitato molto quella che è l'attività internazionale. Infatti, quello è il limite, però comunque da sempre che tu stai sviluppando questo tipo di incontri internazionali, persino i nostri amici del Messico sono presenti. Certo, esatto, il Messico che viene ormai ogni anno, ogni edizione, nell'ultima era con i maschi, adesso è con le femmine, probabilmente schiererà una squadra nell'Under 10 che faremo per nazioni, so che tu vuoi chiedermi il mio pronostico, perfetto, io penso che la finale dovrebbe essere, dovrebbe, Bulgaria-Serbia, sia con i maschi che con le femmine. Come viene articolato così i nostri followers? Certo, la mattina giocano le ragazze e nel pomeriggio iniziano a giocare i maschi. A partire da che ora? Allora, da un quarto alle nove, la mattina, le ragazze e alle 14.30 i maschi. Quindi invitiamo giustamente quelli di altri club, di altri circoli e anche quelli che vogliono? Perché è importante anche per fare un confronto con le capacità tecniche dei propri agonisti, dei propri circoli. Infatti, speriamo giustamente, ci auguriamo anche perché la location è eccezionale, perché ormai è arrezzato, sappiamo che c'è il centro del tennis internazionale giovanile in Italia. Se mi concedi un'osservazione è che avremo gli psicologi che osserveranno sia il Lampo Trophy che l'Under 10 che verrà giocato nella prima settimana di agosto. Questo forse è un riconoscimento importante al lavoro che abbiamo fatto, perché abbiamo psicologa dell'Università Statale di Brescia e una psicologa della Federazione Italiana Tennis che faranno un monitoraggio sul comportamento, sullo stress sia dei giocatori che dei coach e soprattutto ai genitori. Benissimo, infatti è una bella chicca, anche mi dà lo spunto, sono dietro di noi che stanno assistendo al colloquio tra i coach e l'arbitro dell'incontro. Tra poco, giustamente, andremo, sì, facciamo così, facciamo in diretta. Il bello della diretta, praticamente, adesso abbiamo la possibilità di, abbiamo commentato con Gianni, il vostro ruolo, quindi adesso ti autorisco anche, visto che rispettiamo i protocolli, di abbassarti la mascherina. I te presenti, chi sei te? Allora, io sono Chiara Buizza, sono una psicologa dello sport e collaboro con la Federazione Italiana Tennis e durante questo torneo applicheremo questo progetto sperimentale che ha come obiettivo quello di valutare o di meglio conoscere, diciamo così, le relazioni complesse spesso che intercorrono fra i bambini, i ragazzi che giocano a tennis, i loro genitori e i coach perché sappiamo che l'atteggiamento sia dei genitori che dei coach condiziona molto il piacere e il benessere comunque di chi gioca a tennis, sia nelle fasi molto precoci, sia durante gli allenamenti che durante le competizioni. Quindi faremo delle osservazioni in campo per vedere effettivamente appunto cosa succede, chiederemo sia ai genitori che ai coach di compilare dei questionari e poi saremo sempre presenti per eventualmente dare anche dei consigli o materiale informativo, diciamo, su queste tematiche. Il nostro riferimento è la Federazione Italiana Tennis che comunque promuove l'aspetto mentale nell'allenamento del tennis, quindi il riferimento è un po' quello. Benissimo, che venga migliore a questo punto. Esatto, in bocca al lupo. E adesso è il momento anche di parlare con Elena perché parlavo con tua collega, è un ruolo importante il vostro perché a questa età soprattutto il tennis agonistico richiede comunque una cura particolare. Fondamentale, io sono un'ex giocatrice di tennis, proprio alla loro età ho fatto una competizione europea, sono diventata maestra e attualmente con la Federazione stiamo facendo tanti programmi di prevenzione. È importante che si inizi già da piccoli perché quando iniziano i professionisti a vent'anni a volte è un po' tardi per poter lavorare sulla parte mentale, è necessario iniziare a questa età. Dici che meno racchette distrutte nel tempo? Sì, una gestione della rabbia ma non solo nel campo da tennis, questo nella vita, dare degli strumenti. La psicologia, sono molto orgogliosa che quest'anno si sia deciso di portarla in campo. Anche perché comunque c'è un feedback? Sì, c'è un feedback, ci viene richiesto dai genitori, dai coach, ci viene richiesto spesso di fare questi lavori. La Federazione Italiana Tennis crede in questo, sta investendo tanto sia sui ragazzi che sulle famiglie, questo è il nostro obiettivo. Voi siete a Brescia? Siamo a Brescia ma come federazione ci stiamo muovendo su tutta Italia, seguiamo i ragazzi, li aiutiamo. Giocavi tennis, mi dicevi, dove? Giocava tennis, ho girato sia a Milano che a Londra, in più posti. Benissimo, e adesso sì, ti facciamo salutare qualcuno in particolare, dai. Allora salutiamo Antonio Daino che è responsabile dell'area mentale, gli mandiamo un saluto e lo aspettiamo sui campi. Ogni anno per fortuna abbiamo sempre una valida collaborazione con la program group che ci dà gli allestimenti del circolo, il circolo noi facciamo il massimo perché possa sempre essere nelle migliori condizioni, Villa Fenaroli si spiega da sola, di conseguenza penso che tutto sia il meglio per tutti. E adesso facciamo un po' di promo al tuo circolo perché lo faccio volentieri, anche perché oltre al tennis c'è il padel che adesso vedo che è di moda però comunque da sempre è stato un bel sport. Sì, sì, infatti da qualche anno abbiamo anche questo campo di padel che funziona alla meraviglia e non solo da noi perché in tutta la provincia di Brescia come in tutta Italia si sta espandendo in maniera esponenziale, noi come ripeto cerchiamo sempre di fare il nostro meglio perché tutto possa funzionare e possa migliorarsi di anno in anno. Massimo, per concludere, per completare, invitiamo ai altri due tornei importanti che si svolteranno sempre a casa tua. Infatti l'orgoglio è maggiore quest'anno perché oltre a questo evento, alla Nation Challenge che anche quella sono quattro anni che organizziamo, avremo questo nuovo torneo sperimentale Under 10, sempre internazionale, sempre a squadra, vediamo cosa porterà anche questa nuova avventura. Allora, buona continuazione. Grazie a tutti, ciao. Adesso è il momento della foto ufficiale di tutti i maestri che sono là, quindi approfittiamo, visto che il nostro lavoro è praticamente in diretta. Il nostro amico Alvaro Mofaes è il fotorgo ufficiale dell'evento e modestamente noi, anche noi siamo broadcaster di questo evento. Redazione TG Sport, canale nostro di YouTube. Alvaro Mofaes è il nostro amico Alvaro Mofaes è il nostro amico Alvaro Mofa,